5, 4, 3, 2, 1, vai, 20 destra 3 meno breve, 100 al cartello destra 4 meno pizzica per sinistra 5 breve, chiusa, 50, attenzione, sinistra 3 più, tieni tanto, 3 più, tieni tanto, per destra 3 breve, in sinistra 4 meno chiusa, 50, tornante sinistra stringe, no e ritarda, destra 4, lunga lunga chiude, in sinistra 3 più breve, taglia, e ritarda, destra 3 meno lunga, gira, no 100 attenzione dosso in sinistra 3, meno meno sporca ai paletti, in destra 3 meno breve, pela ecco la colera per sinistra 5, destra 2, no e sinistra 2 corta, 50 al cartello, destra 2 lunga, 2 lunga per sinistra 5 50 sinistra 3 meno meno lascia, no per destra 5 100 al cartello blu, destra 3, no 50 al cartello inversione sinistra e destra 4 per sinistra 4 breve 100 ai ceppi, destra 5 su dosso, tieni destra 5 su dosso, tieni più 50 e attenzione sinistra 3 più, apre e taglia 100 alla casa destra 4 meno breve in sinistra 50 e attenzione Meshikand destra 20 destra 3 più tra le case, no 100 attenzione, destra 3 aggancia sporca 3 aggancia sporca diventa 4 per sinistra 4, per sinistra 4 meno taglia 50 ai cartelli destra 4, lunga rotta per anticipa, sinistra 3 più breve e sinistra 4 meno meno, chiude dopo per destra 4 meno, lunga lunga sporca e chiude e ai birri ritarda, sinistra 2 lunga gira 2 lunga gira e destra 5 meno, tieni per sinistra 5 breve, 50 destra 5, 20 destra e destra 4 meno, chiude 100 dosso in sinistra 4 meno meno, occhio per destra 4 meno, no in sinistra e destra 4 meno, no e sinistra 4 breve, per destra 3 più, no destra 3 più, no con dosso in destra 4 meno per sinistra 5, chiude 4 al ceppo in destra 4 meno meno per sinistra 4 meno meno, taglia e destra 4 meno, chiude sporca in sinistra 4 meno breve, taglia 100 a vista sinistra 4 meno meno e destra 3 più, chiude, sporca con dosso in sinistra, 200 ai rovesci, più 50 attenzione, destra 3 più breve, lascia e destra 2 destra 3 più breve, lascia e destra 2 e destra per sinistra 5, chiusa 5 chiusa, 50 al cartello, destra 5, tieni sinistra e sinistra 5 diventa 4 anticipa per destra 5 50, sinistra 5, attenzione stacca, sinistra 3 chiude 1 tra le case 50 sinistra 5 chiusa per destra 4 meno meno, chiudila 50 destra in sinistra 5 e 100 destra 4 breve, tieni e sinistra 3 più con dosso in destra 50 50 attenzione, destra 5 meno meno su dosso, tieni tanto 50 sinistra 3 più, lascia diventa 4 breve 100 destra 5 per sinistra in destra 4 attenzione, sinistra 3 più, tieni in destra 3 meno, sporca, no 50 sinistra 3 più su dosso diventa 5 diventa 5 50 destra 4 taglia per sinistra 5 meno in destra chiude 3 meno, sporca 20 attenzione, destra 1, bilio sotto di 4 sinistra 4 meno meno breve e destra 4 meno meno chiusa per sinistra 3 più in destra 4 meno meno e sinistra 4 meno meno in destra 3 breve in destra 3 breve 20 sinistra 4 meno meno corta chiude e sinistra 5 50 sinistra 5 meno meno breve 50 i biri destra 3 più breve taglia 50 sinistra 4 meno corta 50 sinistra 5 meno meno tieni per destra 4 meno meno in sinistra 4 breve attenzione, destra 3 meno 3 meno per sinistra 5 lunga lunga chiude in destra 4 meno breve in destra 4 meno breve taglia e sinistra 5 chiude 4 e attenzione, destra 3 breve no per sinistra 4 breve in destra 5 e destra 5 meno breve attenzione, destra 3 meno per sinistra in destra 5 attenzione ai cartelli in versione sinistra per sinistra 3 più in destra 2 per sinistra 3 più in destra 2 per sinistra 3 più in destra 2 breve taglia 100 attenzione, attenzione, anticipa dosso in sinistra 3 più breve 50 destra 4 e destra 3 più no e destra 4 meno no 50 destra 5 per sinistra 3 lunga lunga sinistra 3 lunga lunga e destra 3 meno breve sporca taglia 3 meno breve sporca taglia 50 attenzione a Ray destra 3 più diventa 3 breve chiude 2 sporca e sinistra 2 per destra 3 meno meno taglia sporca 50 attenzione, torna fino a sinistro 200 sinistra 4 tieni in destra 3 meno breve sporca per sinistra 2 in video 50 stai sinistra Albiri destra 2 apre aggancia sporca 100 in sinistra Albiri anticipa sinistra 3 più breve 50 destra 5 attenzione a Ray tornante sinistra pulito tornante sinistra pulito 100 100 a Ray ritarda tornante destra chiude tornante destra chiude ritarda per sinistra 5 100 a Ray tornante sinistra chiude 50 ritarda destra 3 apre 50 rovesci destra 4 meno breve 50 destra 5 breve 50 destra 5 100 con salto dosso per sinistra 5 tieni in destra 4 più ziora con dosso dritto più 50 destra 4 meno tieni per anticipa sinistra 4 meno meno 200 ai rovesci attenzione destra 2 chiude in sinistra 2 meno no e sinistra 4 lunga lunga chiude destra 3 più breve 50 sinistra 3 su dosso chiude dopo sporca e destra 3 taglia 50 destra 3 breve sporca per sinistra 3 più breve taglia sporca 20 sinistra 3 meno lunga per destra e destra 2 lunga sporca no e attenzione sinistra 1 chiude e destra chiude 3 a rail e diventa 3 meno meno no 3 meno meno no non è più sporca 200 alla staccionata attenzione ritarda sinistra chiude 1 sporca no e destra 5 100 dosso in sinistra e attenzione ritarda destra 3 no 20 in destra 1 chiude no e sinistra 3 più tieni 100 alla alla casa sinistra 3 meno meno apre 100 destra 3 più no per sinistra 500 a rail a rail sinistra 2 apre 50 destra 3 meno taglia per sinistra 3 più sporca no 10 10 44 4 4 4 Grazie a tutti.